Giornata cruciale per i 5 Stelle, intesa raggiunta con l'Associazione Rousseau sui dati degli iscritti. Ad annunciarlo l'ex Premier Conte, poi a stretto giro l'addio al Movimento di Davide Casaleggio, figlio del fondatore Gianroberto. Alessandro Gamberi. La guerra tra Movimento e Rousseau trova l'epilogo in serata. Dopo mesi di battaglie legali, Giuseppe Conte annuncia l'accordo con l'Associazione Milanese per il passaggio dei dati degli iscritti al Movimento. Ho parlato direttamente con Casaleggio, scrive l'ex Premier sui social, le strade si dividono ma con pieno rispetto da parte nostra. Nei prossimi giorni i dettagli sul nuovo Movimento e la votazione per il leader, ambiente, lotta disuguaglianza e precarietà a tutte le mafie. Giugno rivendica Conte e segna l'inizio del nostro secondo tempo. Contemporaneamente sul blog delle Stelle Davide Casaleggio comunica il suo addio con un duro post. Questo non è più il mio Movimento, scrive e sono certo non l'avrebbe riconosciuto nemmeno mio padre. Tra le prime reazioni quella di Luigi Di Maio, adesso più che mai dobbiamo fare squadra, coinvolgere tutti e blindare la leadership di Conte. Uniti, rivendica, possiamo ancora fare tanto per gli italiani. Nel centro-sinistra soddisfazione per l'accordo raggiunto al G7 sulla tassazione delle multinazionali e sulla giustizia. Il segretario PD Letto.